L'eccezionale ondata di caldo non influirà in alcun modo sui tempi della vendemmia del primitivo nell'agro tra Sava e Manduria nel Tarantino dove c'è la più ampia diffusione di questo vitigno. Anzi la produzione 2015 si prospetta tra le migliori degli ultimi anni proprio perché è piovuto in abbondanza fino a tutto maggio ed ora il sole sta portando a maturazione i grappoli. La pianta non soffre il caldo ci spiega l'enologo Leonardo Pinto del Consorzio Produttori Vini perché il terreno è argilloso e conserva a lungo l'umidità accumulata. Comunque ci si comincia a preparare per la vendemmia, iniziano le analisi per stabilire il grado di zuccheri nell'uva che ancora però non ha raggiunto il livello ideale. Di anticipare la vendemmia non se ne parla ma che crea danni neanche. Essendo dei vigneti molto argillosi e profondi, conserva ancora l'umidità a 20 cm dalla crosta terrestre. Siamo intorno ai 12 bab, abbiamo fatto un'analisi con il refrattometro, ma ancora è prematuro. Io penso che andremo a finire a fine mese una settimana di ritardo rispetto all'anno scorso.